Ciao da Absim! Eccoci già con il secondo unboxing della stagione 2022-2023, anche se una sola maglia fino a questo momento è stata presentata, è uscita, e cioè la maglia Home, la intravedete già qui dietro appesa, la versione replica che ho già unboxato per voi, che ho già aperto e vi ho già mostrato nel video precedente, e qui andiamo invece ad aprire la versione Authentic, perché la versione replica è stata messa in vendita poco prima che venisse indossata per la prima volta nelle ultime due partite stagionali della Juventus 2021 ed è stata anche realizzata in una versione speciale per salutare Giorgio Chiellini dopo 17 anni in bianconero, mentre la versione Authentic indossata in campo dai calciatori abbiamo dovuto attendere qualche giorno in più per trovarla disponibile negli store. Sia su Adidas che su Juventus è un ritardo dovuto ad Adidas perché abbiamo registrato lo stesso ritardo anche per altri club, quindi una distanza di qualche giorno tra la versione replica e la versione Authentic, e adesso andiamo a vedere di chi l'ho presa, ma soprattutto le divergenze e magari i punti di contatto, anche per vedere qual è la versione preferibile in base naturalmente all'utilizzo che se ne vuole fare. Preventivamente la versione replica è di solito meno traspirante e meno leggera anche proprio a livello di peso, quindi meno adatta alla performance atletica, ma al tempo stesso più resistente se deve essere una maglia da battaglia da indossare per esempio per tante partite di calcetto. La versione Authentic invece è appunto più performante perché è quella indossata dai calciatori in partita, ma loro possono cambiarne e ne cambiano una o due anche a partita, pure cambiandola nell'intervallo, e quindi è nella miglior versione possibile, tendenzialmente anche di pregio a livello di tessuto, in alcuni casi, per esempio la Authentic della scorsa stagione 2021 era veramente pregevole, veramente fantastica come tessuto, e ve ne ho parlato nel video su Absim Shirts, la mia rubrica in cui vi ho raccontato tutte le maglie della storia della Juventus dalla stagione 94-95 fino a quelle attuali, vediamo come sarà in questo caso, ed è quindi più un pezzo da museo, diciamo, l'Authentic, almeno io le uso così, ne prendo due, prendo sia la replica che l'Authentic per parlarvene, per mostrarvi le differenze, ma anche per indossare la replica da battaglia nelle mie live reaction e nei video e lasciare l'Authentic appesa qui, buona buona, che non si rovina o si rovina sicuramente molto molto meno. E allora andiamo ad aprire la busta che mi è stata recapitata oggi, venerdì scorso sono stati messi, oggi 31 maggio, venerdì scorso sono stati messi in vendita, messi in vendita le versioni authentic della maglia della Juventus sul sito su store.juventus.com dove appunto l'ho acquistata. Come sapete preferisco sempre acquistare su store.juventus.com per due ordini di ragioni, il primo è che così si sovvenziona più direttamente la Juventus a parità di spesa per l'utente, non che in questo periodo sia così entusiasmante dar soldi alla Juve che li sta spendendo un po' maluccio, però resta comunque la fidelizzazione del tifoso, ma soprattutto perché la personalizzazione possibile su store.juventus.com non è possibile su Adidas e questo riguarda anche in questo caso tutte le squadre, se andate a vedere anche altre squadre Adidas, se volete la personalizzazione con per esempio la patch del campionato o lo sponsor di manica dovete andare, e anche lo sponsor di schiena dovete andare sullo store del club e non su quello di Adidas che vi fornisce al massimo la personalizzazione con nome e numero e scudetto Coppa Italia che quest'anno, niente, per la stagione 22-23. Ho aperto la busta, vado come sempre innanzitutto a togliere tutte quelle che sono le carte con riepilogo di ordine, quant'altro, per un reso che chiaramente non farò. La fortuna ha voluto che nel guardar dentro la cartolina con sovrastampata una foto sia a rovescio, cioè esattamente così, quindi io ancora non vedo, non ho visto chi c'è, ma adesso sì e non è possibile. Non è possibile, cioè io ho preso la replica e mi hanno tirato fuori Bonucci e Chiellini, ho preso l'authentic e mi hanno tirato fuori Bonucci e Chiellini. Che cosa ne devo fare adesso? Perché mi perseguitate? Juventus, perché mi perseguiti? Non li voglio vedere Bonucci e Chiellini, manco in cartolina, non li voglio vedere, manco in cartolina, perdonatevi ma è così. E vabbè, ce l'hanno con me, evidentemente l'hanno visto, chi ha ordinato, scherzo naturalmente, che in questo periodo evidentemente Chiellini, come sapete, è un po' dovunque, quindi hanno messo la foto di Chiellini. Come sempre, lo scopo della cartolina è quello di consentirvi di comparire nella sezione apposita e sui social della Juventus. Chiaramente, vabbè, lasciamo stare. Comunque non farò la foto anche perché non sono più su Instagram, come sapete, ma queste cose ve le ho già dette anche nello scorso unboxing. Per evitare di essere ripetitivi, andiamo a tirar fuori la versione Authentic che per la prima volta, in questo momento, vedo da vicino, già che non avevo avuto la possibilità di vederla neanche in negozio. Sto controllando se ci sono degli spoiler con l'etichetta, quindi la sistemo un po' all'interno del colletto, ecco qui. Sì, così non si vede nulla. Non ero riuscito a trovarla neanche in negozio perché, appunto, è uscita in vendita veramente da poco, avete sentito tutto questo rumore perché, eccola qui, e allora la stiamo vedendo adesso, per la prima volta, questo è il dettaglio frontale. Senza in luci vado ad aprire la busta anche perché dopo devo mostrarvi di chi l'ho presa, spiegarvi perché l'ho presa di questo calciatore, e poi farvi vedere le differenze con la versione replica. Quindi per non andare troppo per le lunghe, altra carta inutile, via la busta, ed eccoci qua, ed eccoci qua, eccoci qua. Allora, cerchiamo di non far vedere la personalizzazione, ci provo così, ci provo così, vediamo, non si dovrebbe vedere, ecco. Bene, direi che a guardarla adesso dal retro è un tessuto decisamente diverso rispetto a quello della versione replica, molto più leggero, traspirante, infatti, infatti si vede, io vedo attraverso, vedo la luce attraverso, vedo la luce, vedo la luce attraverso il tessuto, che provo a farvi vedere proprio, ecco, maggiormente nel dettaglio, anche per quanto riguarda il logo Juventus, ecco, come vedete, come sempre termo applicato per dare maggiore leggerezza, la stessa cosa per quanto riguarda il logo Adidas, dall'altra parte, la scritta Jeep, come sapete, ci sono tuoni e fulmini, tuoni e fulmini, le strisce Adidas sono, eccole qui, anche loro, molto molto sottili, ecco, termo applicate, vi raccomando sempre per quanto riguarda l'originalità del prodotto, anche se state acquistando maglie Adidas di qualche anno fa, di controllare sempre che ci sia all'interno questa etichetta che reca mese e anno di produzione e dalla parte retrostante una sorta di QR code, eccolo qui, se lo riusciamo ad inquadrare, regia, dammi una mano, eccolo qui, che conferma l'originalità. Altra cosa che dovete sempre controllare, ah, a proposito, c'è pure la bellissima toppa laterale BitGet, che è lo sponsor di Manica, perché? Perché dall'altra parte l'ho presa con la personalizzazione Champions League, personalizzazione Champions League, l'unica disponibile in questo momento sul sito della Juventus, perché quella Serie A deve ancora arrivare con la nuova grafica 22-23, quindi non l'hanno messa a disposizione giustamente perché sarebbe stata vecchia. Dicevo, altra cosa da controllare, poi insomma, UEFA Champions League, se ci andiamo in Champions, cioè ci siamo andati, però qui con le sanzioni, Superlega, per prefinanziare, non si sa mai. A proposito, questa è una etichetta che deve sempre esserci nella versione Authentic degli ultimi anni da parte di Adidas, per tutti quanti i club, è uguale, cambia solo praticamente la stagione. La dicitura anche per quanto riguarda il nome tecnico, diciamo, dell'abbigliamento, ecco, io adesso ve lo sto facendo vedere, ma non lo riesco a leggere, perché grigio su bianco e nero c'è scritto HitRDI come prevedibile, perché è la dicitura per la versione Authentic. Altra cosa, dicevo, che dovete sempre controllare per quanto riguarda l'originalità dei prodotti Adidas, è che l'etichetta recchi questa grafica, in particolare con l'indicazione della società produttrice nel riquadro all'inizio, e deve essere attaccata esattamente in questo modo, cioè dalla cucitura fino al basso, quindi deve essere in questo ordine, ok? Questo ve lo dico perché molto spesso mi chiedete come faccio a distinguere una maglia originale. Per tutte le maglie Adidas è così, in particolare per quelle recenti. Andiamo anche a vedere dove è prodotta, ecco, questa qui, per quanto riguarda questa, abbiamo la scritta Made in Vietnam, se riesco sempre a farvela vedere, ecco qui, And Plastic Waste, Made in Vietnam, le maglie della Juventus di Adidas, le maglie di Adidas in generale sono o Vietnam o Cambogia, però dipende dalle annate. E allora, a questo punto, di chi l'ho presa? Dai, la faccio semplice, dai, ecco qui. Il buon Delict, il buon Matteo, Mattia, Matteis, cos'è Matteis, cos'è Matteo, Matteo, comunque, il buon Delict, numero 4, eh, devo dire, comunque, la sto guardando adesso io per la prima volta, dal frontale, è decisamente meglio, sempre una maglia bianco-grigia, che non mi convince molto, però decisamente meglio, contro l'altro, anche altra cosa che dovete farci caso, la parte sagomata sotto, non è dritta, e appunto è sagomata. Perché Delict? Perché siamo in balia delle onde, Vlaovic probabilmente cambia numero, di conseguenza Morata non resta, Di Balla se ne è andata, non si sa chi prende la 10, insomma, lo sapete, tante incertezze di calcio-mercato, una delle poche certezze, è che Delict giocherà per la Juventus sulla prossima stagione, e non cambierà numero, tenendo il 4, che è il suo numero. Poi, se Delict se ne va, e ci tolgono la Champions, perché per qualche sanzione, o qualche roba strana, sapete con chi prendervela. È colpa mia. Detto questo, vado a prendere un attimo la versione replica qui accanto, e vediamo un attimo le differenze. Allora, in buona parte le le ho già mostrate, facendovi vedere la replica, che è qui, da questa parte. Il colletto, per esempio, se vogliamo andarlo a vedere, è praticamente uguale, cioè la banda nera del colletto è la stessa. Le differenze sono, relativamente alle strisce, che sono in rilievo nella versione replica, e invece termo applicate, quindi molto sottili, nella versione authentic. La stessa cosa per quanto riguarda i loghi, questa è la differenza visiva tra logo Juventus replica e logo Juventus authentic, probabilmente riusciti a notare anche la differenza di tessuto, che è anche questa abbastanza rilevante. Il logo Adidas, che è sempre bene notare come è fatto, perché nelle versioni fake, poi, non lo sanno replicare bene. Non ci sono molte differenze, nel senso, sembra che ci siano meno differenze, ma comunque abbiamo un cucito sulla replica e un termo applicato sull'authentic. A livello di logo Jeep, invece, è la stessa identica cosa, non cambia veramente nulla, quindi non troverete nessuna differenza a livello di scritta Jeep, è praticamente uguale. La personalizzazione, beh, direi che siamo anche qui il stesso livello, cioè tra Delict 4 e Absim 13, chi è più forte? Cioè, chiaramente più forte Absim 13, a parte questo. Poi, ovviamente, già fatto vedere, questa qui sotto è sagomata, questa qui invece la replica è dritta. Deve recare l'etichetta che vi ho fatto vedere prima, l'etichetta, questa qui, con Authentic 2223, è presente soltanto sulla Authentic, mentre la versione replica non ce l'ha. Da questa parte non ha nulla, ha semplicemente la striscia. tra l'altro, ecco, la banda traspirante laterale, sotto i fianchi, è presente in entrambe le versioni, ma guardate che differenza di tessuto, se non mi incarto, eccola qui, la differenza di tessuto è evidente, perché questa, sempre da questo lato, è la versione replica, come vedete, è bucherellata, mentre la versione Authentic non è altro che la prosecuzione dello stesso tessuto del resto della maglia, vedete, è semplicemente una cucitura, perché, proprio perché appunto nella versione replica hanno dovuto assicurare una maggiore traspirabilità in questa fascia laterale che ha lo scopo di traspirazione, mentre siccome la versione Authentic è già tutta molto traspirante, non hanno avuto necessità di modificare il tessuto. Nella versione Champions League naturalmente non c'è lo sponsor Cygames sotto il numero, mentre abbiamo appunto BitGet sulla manica e cos'altro? Nulla, perché poi anche qui per quanto riguarda le etichette è la stessa cosa, cioè l'etichetta interna con mese e anno e il QR code di produzione la trovate comunque, l'etichetta interna con il produttore specificato, con Adidas, Amsterdam eccetera c'è anche qui e nient'altro, poi è una questione di tessuto che come vi dicevo nella versione Replica mi sembra molto liscio, traslucido, non è proprio invitante, cioè è un po' una cosa, come dire, finta, un po' di plastica nel senso proprio poliestere di quelli non mi piacciono i tessuti lisci, mi piace il ruvido, la possibilità di sentire anche al tatto le differenze. nella versione Authentic un pochino sì, però devo dirvi questa versione qui ricorda molto, moltissimo, moltissimo, quasi uguale la struttura del tessuto della Authentic 2021, l'anno di Pirlo, quindi comunque che ce l'ho qui dietro, ecco questa qui con le bande dorate, quella, insomma, l'ultima maglia effettivamente di Ronaldo, anche se poi nelle ultime partite avevamo indossato la home di questa stagione, quindi hanno ripreso un po' quel tipo di tessuto, mentre la scorsa stagione il tessuto dell'Authentic, come già ho detto, della 21-22, è stata, cioè la stagione che adesso è terminata, è stato veramente un upgrade fantastico. Mi dispiace che si sia ritornati un pochino indietro, non di troppo, quindi non con un downgrade significativo, anzi, questa versione Authentic è notevole, è pregevole, è valida a livello di tessuto, a livello tecnico, devo dire che l'approvo, Avzim approved, e il problema è sempre che non mi piace molto la maglia così come è fatta, con queste strisce che sembrano grigie, con questi triangoli che ricorderanno anche l'Allianz Stadium ma non sono così identitari a dirla tutta, naturalmente, come per tutte le maglie della Juventus, anche questa prenderà gloria se si vincerà e se sarà legata ad emozioni importanti, altrimenti potrebbe diventare anche peggio come peggio è diventata quella della stagione 21-22 che bellissima era al lancio e bellissima resta, ma purtroppo è zero titoli e quindi questo conta tanto. Adesso questa la vado a pendere, la Authentic, che vedrete di qui in avanti dietro i miei video e questa la metto nel mio armadio a parte dove ho le maglie replica e quelle con cui gioco a calcetto per indossarla per le live reaction della prossima stagione. grazie per la vostra attenzione e allora ditemi nei commenti se trovate valida interessante meritevole la versione Authentic rispetto alla replica quale delle due avete già acquistato o pensate di acquistare o magari se le prendete entrambe che uso volete farne di chi la prendete come personalizzazione in questo momento un po' caotico e incerto di calciomercato e mettete like al video per farmi sapere che vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti e abbonatevi a questo canale a partire da 99 centesimi al mese per avere tanti vantaggi all'interno della community tra cui le chat riservate sul mio server Discord e la programmazione quotidiana con orari e argomenti dei nuovi video in uscita ci vediamo molto presto e sempre forza Juve grazie a tutti